Salve a tutti e ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra rubrica letteraria Il potere dei libri. Anche stavolta ci ritroviamo alla fine dell'Ottocento, ma dall'altra parte della manica. Stiamo parlando di Oscar Wilde e della sua commedia L'importanza di essere onesto, scritta nel 1895 e rappresentata per la prima volta nello stesso anno. L'opera Dire il Vero crea qualche problema nella resa del titolo in italiano. L'originale inglese è The Importance of Being Earnest. Il gioco di parole è intraducibile nella nostra lingua, giacché si basa sull'omofonia tra il nome proprio Ernest e l'aggettivo Ernest, scritto è Arnest, che significa onesto. Data l'impossibilità di fare un calco di questa espressione, è molto più saggio tradurlo diversamente, come intelligentemente fa quest'edizione dei Mini Mammut della Newton Compton. Comunque la vogliamo chiamare si tratta di una commedia suddivisa in tre atti che ebbe un grandissimo e immediato successo. Fu definita dallo stesso autore commedia frivola per persone serie. Il primo atto si apre a Londra, in casa dell'aristocratico Algernon, che riceve la visita dell'amico di vecchia data Ernest. Algernon aveva scoperto, grazie ad un astuccio per sigarette dimenticato dall'amico, che in realtà Ernest Warting era Jack Warting. Jack abita in campagna, ma finge di avere un fratello di nome Ernest, per poter condurre una vita dissoluta in città. Siccome lavora come tutore della giovane Cecilie, è necessario che mantenga una reputazione rispettabile. Nel contempo, però, anche Algernon si è creato un alter ego, spacciandosi per l'invalido Bambury. Jack è passato in città per dichiarare il suo amore a Gwendolyn, cugina di Algernon. Si presenta come Ernest e lei sembra apprezzarlo. Tuttavia, avrebbe sposato solo un uomo di nome Ernest, perché quel nome le genera delle vibrazioni e ha un bel suono. Per poter ufficializzare il finanzamento, Jack ha un colloquio con la futura suocera. Dopo un serrato interrogatorio, viene identificato come un trovatello, che fu lasciato in una valigia alla Victoria Station. La suocera a questo punto si oppone al fidanzamento, a meno che Jack non si procuri dei genitori al più presto. Nel secondo atto, la scena si apre in campagna, nella casa di Jack, dove vive la giovane Cecily. Algernon vuole sedurre Cecily e si presenta come Ernest, il fratello squinternato di Jack, e si innamora ricambiato di lei. Anche Cecily, però, sposerebbe solo un uomo di nome Ernest, ritenendolo un nome a quanto piacevole. Sul più bello arriva Jack, che manda via l'amico, che però tornerà di nascosto. Come se non bastasse, arriva anche Gwendolyn, sempre invaghita di Ernest, e parla con Cecily. Le due donne realizzano di essere fidanzate con lo stesso uomo, ovvero Ernest. Si fanno confessare la verità dei due fidanzati e alla fine li perdonano. Il terzo atto complica ulteriormente le carte in tavola. Arriva la futura suocera di Jack, nonché zia di Algernon. Inizialmente non vorrebbe appoggiare il fidanzamento di Algernon, ma poi scopre che la ragazza ha una bella dote e quindi si mostra benevola. Tuttavia Jack si oppone alle nozze e il suo istruzionismo è dovuto al tentativo di convincere la suocera a consentire il matrimonio con Gwendolyn. La donna non ne vuol sapere e la vicenda sembra mettersi per il peggio. A questo punto, però, da una conversazione casuale, che coinvolge anche il reverendo e la governante nella tenuta, si scopre che quest'ultima un tempo lavorava per la suocera e non era più tornata dopo aver smarrito il figlio di lei. Quindi Jack altro non è che il fratello di Algernon e quindi nipote della potenziale suocera. Dunque ci saranno due matrimoni, ma rimane solo un problema. Il nome di Jack gli era stato dato in un secondo momento, nessuno ricorda il suo vero nome, ma solo che aveva lo stesso nome del nonno. Fatte le debite ricerche, si viene a sapere che il suo vero nome è Ernest. Tra i 10.000 falsi nomi tra cui scegliere, guarda caso, aveva optato proprio per il suo vero nome. Anche in questo episodio traspare tutto l'umorismo di Wilde. Siamo nel mondo dell'alta società, dove apparire è molto più importante che essere. Jack, pur essendo rispettabile, facoltoso e ben intenzionato, viene escluso in quanto trovatello, non avendo dei nobili ascendenti. Lo stesso gioco di parole con Ernest rappresenta il ribaltamento di una frase di Giulietta, nel momento in cui scopre che Romeo appartiene ai Montecchi. Che cos'è un nome? La rosa avrebbe lo stesso profumo, anche se la chiamassimo in un altro modo. Nell'opera di Wilde la persona non conta, il nome sì. Apparentemente l'importanza segue il canovaccio della commedia tradizionale, amore contrastato, vecchia che mette i bastoni fra le ruote, ereditiera da sposare, giovani che scogitano stratagemmi, figli illegittimi e meccanismo di agnizione finale. Eppure il finale è senza precedenti, perché smaschera senza appello tutta l'ipocrisia dell'Inghilterra vittoriana e lo fa attraverso un grande paradosso. Quello che era da tutti ritenuto il bugiardo, in realtà aveva sempre detto la verità. Senza ulteriori discorsi procediamo spediti con la pagella. Scorrevolezza, battute pungenti, sapiente uso delle didascalie che non intasano la lettura e dialoghi effervescenti. 9. Originalità. È difficile trovare opere di Wilde scarsamente originali, ma senz'altro questa commedia farsesca e paradossale rappresenta un unibum nel suo genere, come sapiente rovesciamento del dramma borghese. 9. Fruibilità. L'opera è di larga diffusione secondo diversi titoli. Ad esempio in alcune edizioni si chiama l'importanza di chiamarsi Franco e in questo modo si mantiene il gioco di parole, anche se bisognerebbe tradurre anche il nome del protagonista, ce lo vedete un donnaiolo franco nell'Inghilterra vittoriana. A parte questo, è una lettura adatta, accessibile proprio a tutti. 9. Rilettura. Questo dramma solletica è il nostro palato di lettori anche a distanza di anni e certamente ne parleremo e lo consiglieremo ai nostri conoscenti. 9. Attualità. È una di quelle opere che mettono a nudo l'ipocrisia umana, le sue contraddizioni e la sua vacuità. Il suo interesse sfiderà ancora diversi secoli, ammesso che il nostro pianeta dovesse durare così a lungo. 9. Ammetto di non aver trovato particolare difficoltà ad esprimere la media. 9. Una commedia brillante, frivola ma solo in apparenza, che spinge ad un'intensa riflessione, oltre che garanzia di leggerezza e godibilità. Con queste parole ci salutiamo, ma solo per rinnovare il nostro appuntamento con Il potere dei libri. Tante puntate e tanti libri. Ciao ciao! Grazie.